Oltre 2200 chiamate nell'ultimo mese al numero verde di Pronto Badante, il servizio istituito dalla regione toscana per aiutare le persone anziane in difficoltà insieme alle loro famiglie. Un buon bilancio a poche settimane dall'estensione di Pronto Badante a tutto il territorio regionale. Sempre nel primo mese, entro un massimo di 48 ore dalla chiamata all'800 59 33 88, sono state effettuate in toscana 507 visite a domicilio da parte di operatori autorizzati e con il compito di seguire l'anziano e i suoi familiari nella fase delicatissima che segue la prima comparsa di situazioni di fragilità. Nello stesso periodo sono stati attivati 306 voucher dell'Inps, ciascuno del valore di 300 euro da spendere per l'attivazione di un rapporto di lavoro temporaneo con un badante. Il numero più alto di visite, 151, ha riguardato anziani di età compresa fra gli 80 155 e gli 89 anni, prevalenti le richieste di aiuto che riguardano donne 350 contro 157 uomini. Per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale, i numeri più consistenti sono stati registrati nell'area fiorentina, sulle colline dell'Albegna e sulla Miata Grossetano, seguiti dalle zone delle Apuane, del Mugello, del Pisano e della provincia di Firenze e di Grosseto. La regione ha aperto anche un profilo Facebook dedicato a Pronto Badante. La regione ha aperto anche un profilo Facebook utilizzato dal